Un fattore determinante. Idrit Toskic si è presso in Gravina e è arrivato sulla Murgia ad inizio aprile e nelle due partite più recenti ha inciso decisamente sul risultato finale. Gol per il play Montenegrino nell'1-1 interno contro il Lavello, assist per Perez domenica scorsa nel colpaccio del Città degli Ulivi contro il Bitonto. Nelle ultime otto esibizioni in questo campionato tra l'altro la squadra di Pasquale De Candia ha perso con rimpianti solo a Cerignola e collezionato quattro vittorie e tre pareggi e l'ammissione salvezza che sembrava complicatissima non più tardi di un mese e mezzo fa ora è decisamente alla portata. La società come soci Gravina e Presidenti non hanno mai mollato e cercano sempre di darci il loro supporto e con l'avvento del direttore Moscelli e del mister De Candi insieme allo staff e ai giocatori che sono arrivati abbiamo cercato di compattarci e questo è il risultato solo di duro lavoro e sacrificio sul campo. Toskic centrocapista che sa abbinare piedi buoni ad un enorme temperamento è cresciuto nelle giovanili del Bari e in Puglia ha militato per un biegno in C con il Biceglie non mancano esperienze all'estero per lui prima di tornare nel nostro calcio e firmare con il Gravina. Il fatto di uscire cioè di andare all'estero a giocare tra Bulgaria, Albania e Montenegro nella massima serie di ogni campionato è stato cercare un'esperienza nuova dopo Biceglie. Anche se ti dirò a Biceglie mi sono trovato bene soprattutto il primo anno abbiamo fatto bene sfiorando i playoff, il secondo anno è stata smantellata la squadra poi in parte ricomposta e quindi c'è stata c'è stata una situazione così poi la società voleva giocare solo con gli under per il fatto del minutaggio e quindi tutti noi grandi diciamo che un po' ci siamo trovati altre situazioni. Gravina è stata una scelta perché se arriva un centrocampista sto vicino a casa sto a Bari quindi tante motivazioni un bel girone è stata una scelta fatta in questo senso qui. Toskic vuole salvarsi con il Gravina vuole contribuire alla conferma della categoria dei murgiani che si giocano tutto nelle due prossime partite partono da una situazione di due punti di vantaggio sulla zona rossa della classifica. L'ultima esibizione sarà a Picerno contro una squadra in corsa per la vittoria finale del campionato ecco perché diventa fondamentale per la squadra di Pasquale De Candia battere domenica prossima al vicino il Sorrento. Da quando sono qui a Gravina è bello per questo perché ogni partita è una finale e ogni partita ci giochiamo la vita e quindi è bello avere questa pressione addosso magari per esprimere un calcio più bello diciamo rispetto a quello che facciamo anche se noi secondo me giochiamo anche discretamente bene nessuno ci ha regalato veramente nulla in queste partite quindi ce la stiamo sudando noi sul campo insieme allo staff quindi ci auguriamo di un grande esito e di festeggiare con i tifosi domenica la salvezza perché verranno anche loro al campo